Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Su TG.com 24 esce un articolo significativamente intitolato I soldi di Soros al PD. L'articolo è del 20 aprile 2024, firmato Paolo Scarlatta e così leggo nell'articolo 1.075.000 euro in donazioni nel solo biennio 2022-2023. A farsene carico la fondazione svedese che fa capo al miliardario ungherese George Soros. Soldi sembra transitati dall'associazione agenda con discussa destinazione finale, per lo più nella galassia di Ellishline. E dunque Soros finanzia le sinistre fucsia neoliberali. Nulla di illegale ci mancherebbe e però credo che sia significativo questo finanziamento. Evidentemente le politiche delle sinistre fucsia neoliberali atlantiste non sono poi così incompatibili con la visione del mondo delle classi dominanti, delle quali Giorgio Soros, Savasandir è espressione non secondaria. Perché mai un esponente delle classi dominanti no border dovrebbe finanziare un partito che a parole si proclama dalla parte degli ultimi in difesa degli oppressi? È una domanda credo non oziosa. A mio giudizio, come ho cercato di mostrare nel mio libro Sinist Trash contro il neoliberismo progressista, le sinistre fucsia e arcobaleno sono ormai da tempo le guardie fucsia della globalizzazione neoliberale e non stupisce quindi che i padroni del mondo guardino con particolare simpatia alle forze della galassia arcobalenica e addirittura, come apprendiamo ora da TGCon24, le finanzino ad Abundantiam sperando evidentemente che continuino nelle loro politiche liberal-libertarie molto vicine alla visione del mondo dei gruppi egemonici.